Se qualcuno le vuole, sono lì per terra Iniziamo a svuotare il ponte, allora ti aspettiamo, avvi sapevo quando si pompa Eh? Ma si metto veramente con la Glock così Guarda, guarda la Glock La Glock Non mi arrivano tutti Riparo le gambe, distruggo una persona La Glock Ebbah, quando mi arrivano i tre Dove sei, Salem? Salem Mi sei agli uffici, siamo già nella foresta del... E io sono una collina, una Io sono quasi arrivato E c'era la stamina praticamente infinita con questa pace, che l'hanno cambiato come... come va giù Ti prendi conto che non ho neanche ruotato la metà barra Eh, come cazzo fai? E ho 51 di endurance E io ho 44 ma... Sono nel terzo piano Io sono entrato al secondo Secondo non c'è nessuno? No No Ma basta Vediamo cosa c'è Un TOTS Lul Cos'è sta roba? I documenti, i TOTS No, dammelo mai che non ce l'ho E su, Uca Il PSV Discard Discard to TOTS Qualcuno è sul terrazzo? La porta... No No ci vado io Scendo il secondo Ah, non ho la chiave delle 300 peri Io sto all'immondizia del terzo piano Controllare la collina e... In realtà che non c'è nessuno Io opero la solita porta bellissima, molto forte Non c'è qualcuno a fare un po' il cazzone con la pistola Utile Come del solito, ma è un'arma qua dentro Ma, guarda che... che colina è? È la mia sbella, scusa, vuoi mettere? VB Un po' di soldi Dai, porta a me ne una Sì, il cazzo, costa tipo mille passa dollari Cioè, euro Eh, che vuol dire? No Almeno so come usare tutti i milioni che ho Chi è fuori? Io Ok Io sono la macchina delle granate Oh Chi è? Chi ha sparato, raga? Amici? Bene? Mi sa che non abbiamo sparato noi Ottimo Eh, da dove adesso sparò dentro mi sembrava Sì, sembrava dentro Chi c'è al terzo piano? Secondo piano chi c'è? Terzo piano sto io 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 il terzo, io il secondo Secondo chi c'è? Io Io sono a Foria Ok, io sono a Foria Che... io sono a Foria Che... io sono a Foria Io cop... Che ti è andato dietro il minimarker Eh... c'è qua da dove siamo arrivati Sono fuori sul retro... dietro le scale... del... per salire... Le esterne Ma cosa? Te... Io Uno Ah, vediamo Di qua, ti vedo Io sto al pieno terra alla fine del corridoio della che ho da Foria Io sono agli schedari Vedo uno che sta arrivando, credo c'è uno scavo dalla fossa Ok, sono tornato indietro la macchina delle granate C'è uno scavo e sto andando dietro quella a due piani Non l'ho visto Vado... vado dietro quella a due piani, così gli do una occhiata Sono uscito anch'io Io sono... su... sulla sinistra della casa a due piani Sto arrivando anch'io a sinistra della casa a due piani Io sono... Cooper sono di piani, io li faccio già Ok Sto dietro di te Sto dietro Io sono dietro, Fra Se mi copri vado a vedere io Io rusho cazzo duro dritto sulla... dentro... dentro due piani Eh, occhio ancora... ti confondi con noi, eh? No, dentro... sono dentro il due piani Noi siamo dietro il due piani Ah, è qua Capita scav Carmo l'avevo Togliamo una scelta Qualcuno? Mi sono rotto una... Eh? Ho rotto una gamba Molto bene Sto entrando in edificio due piani... Una parte, quella dietro Cav molto davanti... ok, è sicuro Sì, sì Ha un... Ho visto perché non vedo una segre qua questa roba Un gas analyzer Sono dentro due piani Oh, c***o Ti saprei due piani Prato? Eh? Chi serve il gas analyzer? Mmm... Per soldi Ma ti serve per la quest? Te lo do Ma c'era una... Questa... C***o Ti devo poterlo tolsen? Buzz, chi? Six pack Eeeh... Non serve un c***o Ah, è vero C***o L'hai buttato... C***o è morto infatti Sono dentro del... Dei due piani Sto uscendo anche due piani Sto andando al retro Sì, io sono dentro Chi viene come ai binari? Io, io, io No, è ancora finita di ruttare i due piani Intiamo, c***o Sto andando ai binari Quindi, verso i binari non c'è nessuno Stiamo venendo... Stiamo dietro di te Stiamo dietro di te No, io sono ancora al... Due piani No, chiedevo perché se non c'è nessuno davanti Io spero chi vedo davanti Oh, io sarò penetrato No, davanti sparo tutto quello che vedi Mi sa che tra poco è un po' io Ma curati! Non ti tirare i piedi da solo No, infatti che c'ho tutto... C'ho tutto a... Massimo Però c'ho la testa che... Intravo No, ma non è che... Ti sia di... Di dirett'alto a spazio qua Ma te ma che sei con i lager? Non è che stai smascellando? Tu sei fatto di coca di brutto Eh? Una gamba rotta Ehm, andiamo alle costruzioni Andiamo alle factory door Io credo sono ancora all'ormitoria Prendere anche le costruzioni Costruzioni, dai Il problema è che ho preso un penchile Non è possibile? Non è possibile? Ma non è che c'è la contusione? Oh, merda Che pallo t'ha battuto Vabbè, ti passa dopo qua Ehm, colpato Ehm, colpato Vabbè, e non muore E non lo so Ho fatto 30 colpi nelle gambe Non è morto Anch'io le ho sparate addosso Tra le 30.000 gambe C***o Qualcuno ha sparato qua i dormitori, eh? Stavo sparando verso di te Poi ha sparato a me E sono morto Subito Ma che sei proprio Ragazzi, io lo scav di prima l'ho ucciso in un colpo It count Un momento ho tolto lo scav Gli ho dato 10 colpi Non è morto Con la KM Andiamo a dove siete? Io sono Sono sulla strada Costruzioni Avete presente il container che è sulla strada Della zona nuova? Sì Era lì dentro il bastardo Eh, io invece sono dove ci sono i camion qui sulla strada Ah, ok Sono dietro a un filone Prima noi Perché io non posso Ah, non qua non puoi correre Eh, no, c'ho la frattura Ho preso il painkiller Ma non mi va via l'altra Ma non va via Merda che non ho granardi E la mollavona dentro C'è il painkiller Non predo il pain Sono di fianco alla bus station Ok 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 Sto entrando la bus station Sono dentro la bus station Ok Dove sei Cooper? Eh tu? Sta sparando a voi? Ah, sono io dietro di te Sì Pratto sono io È dietro di me Il tit è dietro di te? Sì Mi ha sparato No 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 Non è dietro È dentro il coso L'ho sentito sparare È sempre dentro al container Un po' che mi ha disparato Vabbè tu guarda perché io non vedo Guarda davanti vai Guarda davanti vai Dove sei tu Cooper? Io sono Praticamente davanti al ponte Dove ci sono tutti i furgoni Ah ok Lo sento correre nel ferro Lo sento correre nel ferro Stava venendo a prendersi la bus station eh Mi sa di sì Cazzo è il Grim Reaper che stava venendo a prendervi Guarda davanti Guarda davanti Guarda davanti Guarda davanti Guarda davanti Guarda davanti Ci sono solo due entrate possibili no? Appunto sì Quella lì dove sei tu E questa davanti dove sto guardando io Questa ANTHA Logghiamo come SCAV Vediamo se li becco Il figlio mi sta parremando tutta la mano. lo sento forrere non avete una granata da lanciare dietro no anche perchè non spero dove a noi è praticamente credo l'entrata prima credo sia dietro al coso dietro al container dove si entra ah il container blu che entra alla costruzione si che entra da quella parte proprio lì dentro lui ma è nata custom pensate che fosse a shoreline turno e granate cooper e no fino a volare dietro tramite l'entrata dietro una volta l'entrata direttamente mi spara mi spara mi spara mi spara l'area è allentata l'entrata la prezza grande ok forse è andato dietro al camion ok accanto al camion mi sta pushando l'ho ucciso no è ancora vivo dove è lui dove ci sono ok sta tornando alla breccia allora due colpi sicuro glielo ho sparato in faccia due sicuro è un eyeliner questo cazzo ma torna veramente stiamo facendo i grim reaper dei poveri stiamo ammazzando tutti colpitelo in testa colpitelo in testa perché non vado dietro il camion dietro il camion dietro il camion mi ha ucciso no ma il fatto come cazzo ha fatto a spararmi alla gamba finistra che ero dietro la macchina mi usciva soltanto la testa e il braccio niente cuba seduti noi ho preso la km di frauso con 16 golpi e basta non è che me lo butti via se nemmeno vedo aspetta se nemmeno vedo aspetta mi sta andando a luttare e vincularlo a me lascia sicuro quello che c'ho lasciato che c'ho lì quindi non è un problema a me il mio capello lo prendo per vincularlo cooper 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 pushalo 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 ci sei entrato dentro a luttarci pushalo lo ha perso Porca puttana che bordello che sto facendo Penso che mentre sparava a noi Potevi pusharlo tu, eh, porco Dio È che io ero lontanissimo, eh Ma sei matto lì, fermo due ore Nel senso, se ti fai qualcosa Dai, l'ho preso un sacco L'ho ucciso Porco Dio Mi butti l'HPM, il fast, please Il fatto è che era da solo Sì, che li ha ucciso, voi È necessario qualcosa Anche a me E allora è un altro che ci ha ucciso È VUJA qualcosa, noi Sì, a me è uno con la tuta bianca, a me Aspetta Erano i due, allora L'HPM che hai preso è quello n***a Quello tutto bianco È il tuo, è il tuo, sì, sì Se me lo butti è per... Ucciso anche il tuo compagno Orca madonna, ben fatta Ok, allora li avevamo proprio lasciati con il n***o Vabbè, vai alla buff station Butta le nostre cose Butta le cose di... Di cubi... Di frouze... Butta i passi in genere A me mi interessa solo l'HP, no Il resto è... E rubaccia E rubaccia Comunque basta Porto un'arma con un'ottica da distanza Perché non è possibile In quanti siete? In cinque Eh, a me mi sa che tra poco Così pochissimo ostacolo Ne fai un'altra fraustina Certo, tremendo Ma abbiamo metto i giochi a te In un gioco Mi vero più del bene Grazie a me, hai metto Ah? Ah? Ah, mamma Ah, mamma Non lo tengo per molto Non lo presento No, le cure ci sono No, le cure ci sono No, io sto staccando la gioia No, le cure ci sono No, le cure ci sono Bella, Fran Bella, Fran Beh Notte Buona notte Ciao Buona notte Ciao Buona notte Quindi staccano Lu e frouze Vengono... Pierre e... E me E me Ciao Yes E' solo che io sono... Sono shoreline Muoviti O butta le cose Ammazzati Meccanique Cosa mi fai di nuovo che viene del meccanique? Ah, weapon cage No, quello che sarei a casa Weapon cage? E anche il notturno Che cosa sticare? Bocca Cingo Mi podscia Iventi So Cosa 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 Sunora Un cosor Mi Quanto costa questa roba? 473 euro! Bene dai potevo uscire con un'altra porta ma non mi sono dimenticato di prenderla